Inammissibile il ricorso presentato dal comune di Castellabate sull'ospedale di Agropoli relativo al piano regionale di programmazione della rete ospedaliera. Lo ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. L'ex sindaco della città di Castellabate, Costabile Spinelli, si era opposto al decreto del commissario del 28 dicembre 2018 e ai atti relativi. Il ricorso dell'ex primo cittadino di Castellabate si basava sulla classificazione del nosocomio agropolese quale presidio ospedaliero di zona disagiata, sede di pronto soccorso e presidio di pronto soccorso. Il relativo piano ospedaliero contraddittoriamente non lo doterebbe delle strutture, dei servizi e delle attività minime previste dal relativo decreto per tale tipologia di presidio. Inoltre non sarebbero stati adottati contestuali atti necessari per garantire un uso appropriato dell'ospedale ai fini di migliorare la qualità dell'assistenza offrendo al paziente la giusta intensità di cura per le sue condizioni cliniche. L'ex sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, però non ci sta alla decisione del Tar e annuncia alla nostra emittente un focus dettagliato per spiegare le motivazioni sulla contrarietà della scelta del Tribunale amministrativo regionale della Campania.